Ma per quanti anni pensate di poter andare avanti così? Il problema è che non ci sono i merci da trasportare, perché se ci fossero merci li trasporterebbero. Non ci sono e nel futuro ce ne saranno sempre meno. Avremo tante macchine della polizia per controllare la popolazione ma non trasporti di merci. Non si torna indietro, ormai sei lì e balli. Dobbiamo esporci in prima persona su queste cose, non c'è niente da fare. Vediamo la condanna di tutti e quattro gli indirati alla pena finale di nove anni e sei mesi di repressione. Io credo di ritenermi fortunato, di sentirmi parte comunque di una grande famiglia, come possiamo chiamare il movimento notario. Ritengo però che noi nasciamo soli e moriamo soli. Io mi trovo in questo momento in questo stato di una ricerca di libertà intesa come anche una forma di realizzazione, di felicità individuale. E questo non posso essere altro che io a farlo. Grazie Grazie a tutti.